La domanda tanta, basta vedere queste immagini, l'offerta cerca di essere adeguata. Si incontrano a Barletta, la provincia si fa portavoce delle richieste di centinaia di giovani che vogliono solo lavorare. Il senso è creare nuove opportunità occupazionali, Job Day lo chiamano, progetto Buzz Move, finalizzato a veicolare e sviluppare il dinamismo e l'imprenditorialità giovanile. Nonostante la crisi, negli ultimi mesi ci sono stati circa 650 mila avviamenti. Il problema è fare in modo che questi avviamenti al lavoro passino attraverso un sistema di servizi accreditato e adeguato, cosa che in Italia attualmente non è a disposizione ovunque. Quello che si sta facendo qui in questa provincia della BAT, di Barletta Andiatrani, effettivamente è invece un segnale anche positivo del fatto che il sistema pubblico e privato possono lavorare insieme per realizzare questo risultato. Decine di aziende in tutta Italia cercano nuove figure professionali, i giovani si sono candidati via web tramite la sezione incontralavoro presente nella home page del portale istituzionale della provincia per poi sottoporsi ai colloqui. Stiamo lavorando su Garanzia Giovani, siamo tutti impegnati su Garanzia Giovani che come sappiamo è anche una prospettiva concreta per dare delle risposte a questi ragazzi. Tantissime altre cose saranno messe in campo con la nuova programmazione che partirà da gennaio.